Costituita a Brindisi una task force di Confindustria a disposizione di tutte le aziende industriali, anche se non associate, per qualsiasi esigenza legata alla situazione determinata dall'emergenza coronavirus. A comporre il gruppo di lavoro Vincenzo Gatto, vice direttore di Confindustria e coordinatore della task force, e gli avvocati Diego Mangia e Valentina Corrado dell'area relazione industriale, e l'avvocato Ercole Farina Valori, responsabile dell'area fisco, trasparenza e legalità, in particolare un lavoro legato all'attuazione della smart working, all'utilizzo di ammortizzatori sociali e all'osservanza delle disposizioni di carattere tributario, un aiuto di carattere informativo ed operativo alle aziende predisposto da Confindustria Brindisi, in collegamento con Confindustria nazionale e con le istituzioni governative regionali e locali. Le richieste di informazioni dovranno essere inviate all'indirizzo e-mail segreteria-confindustriabrindisi.it, facendo riferimento per tutte le informazioni al sito www.confindustriabrindisi.it. L'Associazione degli Industriali Brindisini si impegna quindi per un contributo attivo alle imprese e agli imprenditori della provincia, così da poter affrontare e superare il difficile momento che tutti attraversano, sempre nella fiducia che in tempi brevi, finita l'attuale fase di emergenza, possa essere attivato un percorso di crescita e sviluppo del territorio.